Zona umida della Baia di Sunchon è una zona umida collegata al mare. Maggion Anchon zona umida è una zona umida collegata ad un fiume. Così, animali e piante vivere in due zone umide sono diversi. Nella zona umida della Baia di Sunchon è facile individuare le creature marine e vivere nelle distese fangose dell'oceano. Particolarmente in quest'area ci sono molte creature marine e molti uccelli migratori è venuto qui ogni anno. La zona umida di Gion Anchon è collegato al fiume nell'area metropolitana della Corea. Perciò, ha un ruolo purificatore inquinamento ambientale e aree metropolitane in Corea. Nell'ottobre 2023 visitando il parco ecologico delle zone umide di Gion Anchon situato nella città di Gwangju, provincia di Gyeonggi. Vorrei presentarvi un bellissimo parco delle zone umide in Corea. Quest'area fornisce acqua potabile nell'area metropolitana, inclusa Seoul. Zona cuscinetto tra fiumi e terra. Zona costiera la zona ripariale è l'area compresa tra un fiume e la terra. Ed è anche un termine ecologico per uno dei 15 biomi terrestri. La comunità di piante acquatiche si è formata lungo la riva del fiume nella zona della riva prende il nome di vegetazione ripariale. Le zone ripariali sono abitate ecologicamente importanti in termini di influenza sulla fauna, degli ecosistemi di acqua dolce e il mantenimento della biodiversità. La zona ripariale costituisce anche un filtro biologico che protegge l'ecosistema d'acqua dolce, da eccessivi sedimenti e sostanze inquinanti introdotte attraverso le acque superficiali o dall'erosione, e funzioni per regolare la temperatura del fiume formando ombra. Inoltre, la zona ripariale funziona anche per disperdere l'energia del fiume. In altre parole, se la vegetazione è ben sviluppata sulla sponda di un fiume tortuoso, può disperdere la forza trasmessa dal flusso d'acqua e ridurre i danni dall'erosione del suolo o dalle inondazioni lungo il fiume. Inoltre, presenta molti altri vantaggi, come la prevenzione dell'acqua di diventare torbido attirando i sedimenti contenuti nell'acqua, fertilizzare il terreno e rafforzare le sponde dei fiumi. Nell'ecosistema fluviale, la vegetazione formatasi in riva all'acqua diventa una fonte importante di energia e nutrienti scambiati con il fiume. Le piante costiere hanno un impatto significativo sugli invertebrati acquatici in molti modi. Le foglie che cadono nell'acqua forniscono loro un ottimo cibo, e anche le radici che si estendono dal bordo dell'acqua fungono da habitat. Per piccoli invertebrati, inoltre, funge da nascondiglio e luogo di riposo per gli adulti nati, aiutandoli a raggiungere con successo l'accoppiamento, che è il loro obiettivo più grande nella vita. Le comunità di piante acquatiche rallentano il flusso dell'acqua, consentendo particelle di sabbia fine accumularsi, il che contribuisce anche alla formazione di zone umide nelle pianure alluvionali. Nelle zone umide delle pianure alluvionali, nuove specie come coleotteri o larve di libellula che non amano l'acqua che scorre velocemente potrebbe depositarsi.